Ben ritrovati su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo partendo da Siracusa. I carabinieri della stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato per furto due pregiudicati di 49 e 34 anni con precedenti per altri furti in attività commerciali. I due denunciati pochi giorni fa, nottetempo, si erano introdotti in un'attività di ristorazione del centro storico, forzandone la porta ad ingresso con un piede di porco e avevano asportato il registratore di cassa che conteneva circa 150 euro. I militari, dall'analisi del sistema di videosorveglianza, hanno identificato i responsabili che sono così stati denunciati all'autorità giudiziaria di Siracusa. Restiamo nel siracusano ma cambiamo argomento. A Palazzola Creide i carabinieri della locale stazione e di quella di Buccheri hanno arrestato un 37enne di solarino trovato in possesso complessivamente di circa 20 grammi di sostanze stupefacenti tra cocaina e hashish. Nel corso della manifestazione del carnevale i carabinieri sono intervenuti per sedare una lite tra giovani. Tra questi vi era il 37enne il cui atteggiamento ha destato sospetti nei militari che hanno proceduto a una perquisizione personale rinvenendogli addosso ben 20 grammi di droga. Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato posto ai domiciliari così come disposto dall'autorità giudiziaria di Siracusa. Ancora una notizia dal siracusano, in questo caso da Priolo Gargallo. Un cliente non gli avrebbe pagato la cessione di sostanze stupefacenti e per recuperare parte del credito vantato gli ruba il televisore. E questa l'accusa contestata un 25enne arrestato per rapina dagli agenti del commissariato di Priolo Gargallo. Come detto siamo sempre nel siracusano. Durante una perquisizione nell'abitazione dell'indagato, gli investigatori hanno trovato e sequestrato 750 grammi di hashish e il televisore rubato. L'arrestato, già sottoposto all'obbligo di dimora dopo le incombenze di legge e su disposizione dell'autorità giudiziaria competente, è stato posto ai domiciliari. Ed ora invece a Trapani, dove i carabinieri hanno ritrovato un'auto delle poste che era stata rubata a un dipendente a Valderice. Vediamo il servizio. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno rinvenuto e riconsegnato all'avente diritto un'auto seminuova e con i loghi di istituto rubata a Valderice nel fine settimana a un dipendente di poste italiane che stava regolarmente eseguendo il proprio lavoro. Intorno alle 14.30 la centrale operativa riceveva la segnalazione da parte della vittima che denunciava il furto dell'auto di servizio da parte di un uomo con un giubbotto azzurro e un cappuccio nero nella centralissima via Vespri, auto lasciata momentaneamente incustodita e con le chiavi inserite. Subito veniva diramata la nota di ricerca a tutte le vetture sul territorio fornendo la descrizione dei pochi particolari forniti dalla vittima e la via di fuga del presunto ladro. In poco tempo, a seguito di una rapidissima indagine, veniva rintracciata l'automobile a Trapani in zona Villa Rosina, parcheggiata con il motore ancora caldo. L'auto veniva riconsegnata dai carabinieri all'avente diritto mentre sono in corso le acquisizioni di immagini di videosorveglianza degli impianti pubblici e privati che possano ricondurre gli investigatori dell'arma all'autore del furto. 10 persone denunciate per vari reati e questo è il bilancio di un controllo del territorio effettuato nell'ultimo fine settimana dai carabinieri di Milazzo. I dettagli nel servizio. Durante il fine settimana i carabinieri della compagnia di Milazzo hanno effettuato controlli straordinari per contrastare l'illegalità diffusa e i reati legati agli stupefacenti e al codice della strada. Sono stati allestiti diversi posti di controllo anche di notte durante i quali sono stati controllati più di 140 veicoli e oltre 300 persone tra cui 37 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari. Sono state rilevate diverse violazioni al codice della strada tra cui l'uso del cellulare alla guida, la mancata copertura assicurativa e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco. Sei persone sono state denunciate per guida sotto l'influenza di alcol o di sostanze stupefacenti mentre altre due sono state deferite per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dell'uso di droghe. Inoltre una persona è stata denunciata per illecito porto di coltello e un'altra per omessa custodia di oggetti sottoposti a sequestro. Nell'ambito dell'operazione antidroga 11 persone sono state segnalate alla prefettura di Messina come assuntori di sostanze stupefacenti essendo state trovate in possesso di piccole quantità di marijuana, cocaina e hashish destinate al consumo personale. Tutta la droga sequestrata è stata inviata al reparto investigazioni scientifiche per ulteriori analisi di laboratorio. A Messina un 39enne avrebbe accoltellato il coinquilino al culmine di una lite pare scoppiata per futili motivi. L'uomo è stato tratto in arresto dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno tratto in arresto un 39enne per tentato omicidio. Secondo l'accusa avrebbe accoltellato un suo coinquilino di 26 anni al culmine di una lite scaturita pare per futili motivi. I militari dell'arma intervenuti sul posto dopo una segnalazione al 112 hanno individuato il presunto aggressore e recuperato il coltello a serramanico con lama da 8 cm utilizzato durante l'aggressione. La vittima è stata condotta all'ospedale policlinico dove è ricoverata con la prognosi riservata per ferite all'addome da arma da taglio. Secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dai carabinieri sia il 39enne che il 26enne sono persone note alle forze dell'ordine. Un 16enne raggiunto da una coltellata mentre si stavano svolgendo i festeggiamenti del carnevale a Ravanusa nell'Agrigentino è finito al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. L'adolescente coinvolto in una lite scoppiata durante le manifestazioni non è fortunatamente in pericolo di vita. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire cosa abbia innescato la lite e identificare l'aggressore. Ci spostiamo adesso nella Catanese dove un 51enne è stato tratto in arresto e è stato condotto in carcere. Notizia da Fiumefreddo di Sicilia. Si tratta di un uomo che era evaso dai domiciliari e si era poi scagliato contro un carabiniere. I carabinieri della stazione di Fiumefreddo hanno eseguito un'ordinanza che dispone alla custodia cautelare in carcere nei confronti di un 51enne del posto già arrestato in flagranza nei giorni precedenti per resistenza pubblico ufficiale ed evasione. Nella nottata i militari nel corso dei costanti servizi di controllo del territorio si erano recati presso l'abitazione dell'uomo in via Catania, ristretto ai domiciliari per il reato di maltrattamento di familiari o conviventi al fine di verificarne l'osservanza alle prescrizioni imposte dalla misura. Quest'ultimo però alla loro vista è in preda ai fumi, dell'alcol, non ha consentito loro l'accesso nell'edificio e anzi ne ha approfittato per darsi alla fuga attraverso un'intercapedine sul retro della casa che gli ha consentito di dileguarsi. Immediatamente i carabinieri sono stati supportati da colleghi di rinforzo per le ricerche del fuggiasco il quale in seguito credendo che si fossero allontanati è stato localizzato nei pressi dell'abitazione da un militare con il quale ha ingaggiato una violenta colluttazione salvo essere bloccato e ricollocato ai domiciliari. Il compendio dei fatti all'autorità giudiziaria da parte dei carabinieri però è stato determinante per descriverne l'indole e la sua propensione a proseguire con analoghe condotte, motivo per il quale il GIP del Tribunale ha emesso a carico del 51enne il più affittivo provvedimento a seguito del quale è stato associato al carcere catanese di Piazza Lanza. Notizia da Catania invece dove un uomo, si tratta di un tunisino, è stato arrestato dai carabinieri poiché continuava a perseguitare e minacciare di morte anche usando una pistola l'ex moglie. La procura distrettuale della Repubblica nell'ambito di indagini a carico di un 45enne di origini tunisine indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio ha richiesto e ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico eseguita dai carabinieri della stazione di Librino. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte abituali e reiterate che sarebbero state poste in essere dall'uomo nei confronti della moglie durante il matrimonio e dopo la separazione consistite in vessazioni psicologiche, continue molestie, violenze fisiche, umiliazioni anche in pubblico, gravi e allarmanti minacce di morte. La donna, una 36enne anchella di origini tunisine, già durante il matrimonio sarebbe stata destinataria di deprecabili aggressioni verbali da parte del 45enne, pronunciate anche in presenza di familiari, amici e colleghi, nonché di aggressioni fisiche consistite in schiaffi, pugni, calci e lancio di suppellettili, a volte in presenza dei loro figli minori. L'uomo in diverse occasioni avrebbe messo alla porta la moglie e costretta quindi a rifugiarsi a casa dei suoi genitori, privata dell'utilizzo dei social network, delle uscite con i suoi amici e sottoposta a un controllo totale della sua vita e dei suoi spostamenti. Il 45enne che non avrebbe condiviso la separazione avrebbe iniziato a telefonare all'ex insistentemente anche di notte, facendosi trovare sotto la sua abitazione nel quartiere di Librino, dove spesso sarebbe riuscito a introdursi con la forza per poi aggredire fisicamente la donna, insultandola e minacciandola di morte. Di recente, negli ultimi mesi, la situazione sarebbe degenerata perché l'uomo si sarebbe appostato quotidianamente in tutti i luoghi frequentati abitualmente dall'ex moglie e le avrebbe anche riferito di aver ingaggiato delle persone per seguirla, nonché di aver acquistato un'arma. Tale ultima circostanza avrebbe accresciuto i timori della donna per la propria incolumità personale, soprattutto al verificarsi di un episodio in cui sarebbe stata effettivamente minacciata dal 45enne, il quale avrebbe puntato verso di lei una pistola minacciandola di usarla. In una escalation di violenza si sarebbero susseguiti una serie di gravi episodi ad opera dell'uomo, caratterizzati da ira e invadenza nella sfera privata della donna. L'ultimo si sarebbe verificato nella notte del 22 gennaio quando la 36enne, uscita con una comitiva di amici mentre si trovava in un bar del centro di Catania, sarebbe stata avvicinata dall'ex, il quale correndo avrebbe raggiunto il gruppo, insultato l'ex con epiteti offensivi e chiesto agli uomini presenti chi tra loro fosse il nuovo compagno della donna, spintonandoli ripetutamente. Porto di arma da fuoco clandestina, ricettazione e furto. Con queste accuse un 21enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Gela, nel Nisseno. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, nel corso delle indagini preliminari, hanno eseguito l'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal GIP presso il Tribunale di Gela su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un 21enne per i reati di porto di arma clandestina con matricola a brasa, ricettazione della stessa e diversi furti aggravati. In ordine ai fatti contestati, nel novembre dello scorso anno, un equipaggio della Polizia di Stato, nel corso dei servizi di controllo del territorio, notava due giovani con il volto travisato da una maschera identica a quella utilizzata dai personaggi di una nota serie TV a bordo di un ciclomotore privo di targa, transitare nei pressi del centro storico di Gela. I poliziotti intimavano l'alta al conducente, il quale, anziché fermare il mezzo, accelerava l'andatura, dandosi a una precipitosa fuga. Nel frangente, il passeggero estraeva un fucile a canne mozze e lo puntava contro gli agenti postisi all'inseguimento. Nel corso della fuga, sviluppatasi all'interno del centro urbano, uno dei due fuggiaschi si disfaceva dell'arma. Il ciclomotore riusciva a dileguarsi tra le vie del centro, facendo perdere le proprie tracce. Al termine di articolate indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, i poliziotti della sezione investigativa del commissariato sono riusciti ad acquisire gravi elementi indiziari nei confronti dell'arrestato e dopo aver proceduto alla sua cattura, lo hanno tradotto presso il carcere di Gela a disposizione dell'autorità giudiziaria. In seguito all'interrogatorio, l'indagato è stato posto al regime degli arresti domiciliari. A Dacireale del Catanese è stata invece sospesa un'attività commerciale, mentre i carabinieri a Pedara, sempre nel Catanese, hanno tratto in arresto un uomo, il servizio. Nel quadro delle attività preventive del Comando Provinciale, i carabinieri della compagnia di Acireale, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Catania, hanno effettuato un controllo a largo raggio per verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e il rispetto delle restrizioni per le persone ristrette agli arresti domiciliari. In una rivendita di prodotti ittici ad Acireale, i militari hanno denunciato il titolare, un uomo di 40 anni già noto alle forze dell'ordine, per non aver sottoposto tre dipendenti alla visita medica preventiva e per non aver fornito una formazione professionale sui rischi derivanti dall'attività lavorativa. Per questa ragione sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 13 mila euro e l'attività commerciale è stata sospesa temporaneamente. Inoltre a Pedara i carabinieri hanno tratto in arresto un uomo di 47 anni il quale era sottoposto agli arresti domiciliari ma non si trovava nella propria abitazione al momento del controllo. Dopo una breve ricerca i militari lo hanno trovato nell'abitazione di alcuni vicini dove era andato per chiedere una sigaretta. Il 47enne è stato riportato a casa e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto. Era l'ultima notizia ma ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24.